E' giovedì come ogni giovedì, torna up dentro la politica, benvenuto al nostro ospite Antonello Iannarilli, benvenuti a tutti voi al nostro appuntamento fisso settimanale con la politica Antonello Iannarilli non ha bisogno di presentazioni, già Presidente della provincia, già Deputato già Assessore regionale, già Consigliere regionale e se dimentico qualcosa mi corregga caro onorevole ma naturalmente con lui parleremo di quella che è la sua battaglia che ormai da 5 anni possiamo dirlo, sta portando avanti per quanto riguarda l'acqua, per quanto riguarda il servizio idrico in provincia di Frosinone e parleremo di questo, parleremo anche degli equilibri nel centro-destra e di tutto quello che attiene la politica nel nostro territorio. Prima di partire di spiegare anche all'onorevole, visto che è la prima volta che viene qui da noi come funziona il nostro contenitore, vi ricordo quelle che sono le coordinate per entrare in contatto con noi, l'account Twitter chiocciolina app Teleuniverso, la nostra mail app chiocciolateleuniverso.it la pagina Facebook di Teleuniverso naturalmente e poi il numero di telefono per entrare in contatto con noi 0776 729100. Come al solito andiamo a vedere cosa è successo in questa settimana l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Possiamo dire che Lucio Dalla era stato anche abbastanza ottimista, dicendo che solo qualcosa non andasse. In effetti di cose che non sono andate in questo 2014 ce ne sono state parecchie, a partire da una situazione economica e sociale che non tende a risollevarsi ed anzi non ha mai perso occasione per dimostrarsi disastrosa. Chi si aspettava disastri dall'anno nuovo, secondo un SMS emerso dalle indagini, era Salvatore Buzzi, l'uomo delle cooperative legato a Massimo Carminati nell'inchiesta sulla mafia a Roma. In quell'SMS di auguri per l'anno che stava arrivando, Buzzi si augurava un anno pieno di sfollati, rifugiati e bufere. La prossima volta, visto che ci ha pigliato in pieno, potrebbe anche fornire a noi persone oneste e qualche numero da giocare all'otto. Una cosa però è certa, il governo, sull'onda dell'indignazione per le ultime inchieste, ha deciso di inasprire le pene per i reati legati alla corruzione. Funzionerà? Chi lo sa, ma di certo le norme legate e le emotività del momento non hanno portato spesso a risultati esaltanti. L'anno che verrà non porterà nuovi aumenti su casa e canonerai. Il governo ha bloccato tutto, ma intanto il 16 dicembre i cittadini hanno pagato Tasi, Imu e compagnia cantante. Quello che non cambia neanche con le ere geologiche è il continuo litigio nel PD, con Fassina che nell'ultima assemblea ha utilizzato il metodo fini contro Berlusconi, chiedendo a Musoduro al segretario di essere chiaro sul futuro del partito. Renzi ha risposto, pretendo più rispetto. Non l'anno che verrà, ma tra dieci Roma vorrebbe avere le sue Olimpiadi. Il presidente del Consiglio ha avanzato la sua proposta, apriti cielo. La Lega, che oggi ha la scusa per dire che Roma è ladrona, ha lanciato i suoi estrali attraverso Salvini. La risposta più simpatica è stata quella del web. Al posto dei cinque cerchi, cinque manette che si incrociano. Le Olimpiadi però sono una cosa seria e forse una delle occasioni migliori per dimostrare che l'Italia può davvero essere all'altezza. L'anno che verrà si spera possa portare condizioni dignitose per i pendolari ciociari, perché sulla linea Roma-Cassino ormai ogni giorno è un bollettino di guerra. A confronto, lo sciopero che c'è stato venerdì ha creato molti meno disagi rispetto ai disservizi ordinari. In provincia intanto sono 288 gli esuberi, come conseguenza della legge del Rio, ed i dipendenti sono pronti ad occupare Palazzo Iacobucci. Frosinone è latina con la Campania e questa invece l'ultima trovata di Mora su Terranucci, due esponenti del PD, che hanno ben deciso di proporre il loro ridisegno dell'Italia. Anche qui solo bocciature, il giorno dopo Mora Sud, dice, era una provocazione. L'anno che verrà porterà anche bollette dell'acqua più umane? Chi lo sa, quelle che arrivano oggi nelle case dei ciociari di Umano hanno ben poco, visti i numeri che i cittadini si trovano a leggere e a pagare. Di certo, l'anno prossimo ci regalerà un nuovo Presidente della Repubblica. Napolitano ha annunciato che la fine del mandato è imminente e allora, come Lucio Dalla, prepariamoci tutti. È questa l'unica novità. Felice 2015! Naturalmente abbiamo diventato felice 2015 perché questo è l'ultimo appuntamento con App, ma noi ci rivedremo telegiornali e quant'altro. Allora, è stata una settimana ricca come tutte le settimane, partiamo dalla fine. Lei non è stato mai tenero con Napolitano, oggi Napolitano ha detto che è arrivato al capolinea per quanto riguarda il suo mandato. Ecco, che idea si è fatto, perché prendere questo tempo, 2013, fine 2014 e poi mollare? Sicuramente sappiamo i motivi. Quando c'è stata l'elezione e la scadenza non si è trovato la persona giusta in quel momento e anche il nostro partito ha votato il nuovo partito di Napolitano. Io l'ho criticato, se vi ricordate, anche con un'immagine senza la figura di Napolitano, soprattutto per la riforma della provincia, quando firmò il decreto per l'abolizione delle province, quando anche un semplice cittadino sa che la Costituzione è prevista anche dell'ente provincia e Napolitano firmò l'abolizione delle province. Quindi cercavo in modo provocatorio un Presidente che avesse rispetto della Costituzione. E poi vediamo quello che sta succedendo, è stata fatta una riforma delle province con i piedi. L'avevo già detto qualche anno fa che quello che si stava programmando era una soluzione che avrebbe portato solo disastri, sarebbe bastato lasciare la legge Berlusconi dove si eleggeva che sia una cosa importante. Perché poi qua la cosa simpatica è che la Corte Costituzionale dice nella legge elettorale che il cittadino deve scegliere il suo elettore. Poi il governo Renzi e chi l'ha preceduto fa due riforme, il Senato e la provincia dove non c'è più l'elezione diretta, ma la cosa più grave è che prima si criticava il doppio incarico, oggi invece per poter fare il senatore domani devi essere consigliere regionale. Per fare il Presidente della provincia e il consigliere provinciale devi essere consigliere comunale o sindaco. Quindi veramente delle riforme che purtroppo cominceremo a pagare. Uno sarà quello dell'ente provincia, sarebbe bastato togliere tutti gli enti di sottogoverno che ha una provincia dai consorzionati, dai consorsi di bonifica alle comunità montane e mettere tutto intorno alla provincia e lasciare l'elezione diretta del Presidente che invece abbiamo visto anche nella nostra provincia l'inciucio fatto di una vergogna politica. Va bene, di questo ne parleremo più avanti. Adesso andiamo a vedere velocemente un capitolo di cui ha parlato anche l'onorevole Ianna Rilli, che è quello delle riforme, riforme che sono legate a doppio filo tra PD e Forza Italia e ci sono state delle evoluzioni come quella del Presidente della Repubblica. Andiamo a vedere un pezzo di Repubblica che proprio è stato pubblicato quest'oggi per quanto riguarda le riforme. Andiamo a vedere con i nostri giornali. Partiamo subito con quello che si legge. Resta saldo il patto del Nazareno che ieri sembrava traballare pericolosamente per una questione di tempistica. Il nodo era il timing delle votazioni. Votare prima per il Colle, scelta caldeggiata da Forza Italia o per le riforme, l'opzione del PD. Oggi il Ministro Boschi ha annunciato che tra azzurri e democratici è stata trovata la quadra. Sui tempi, spiega il Ministro, c'è sempre l'intesa con Forza Italia. Il calendario prevede che l'8 gennaio saremo in aula alla Camera con la riforma costituzionale e contemporaneamente al Senato procediamo con la legge elettorale. E oggi il Premier Renzi si dice tranquillo in vista delle elezioni del prossimo Presidente della Repubblica. Credo che il Parlamento abbia imparato la lezione dell'aprile 2013 e riuscirà a fare quello che deve nei tempi stabiliti, ha detto il Premier. L'azione del Governo per accelerare le riforme è stata eroggiata oggi dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha ricordato l'ampio e coraggioso sforzo che il Governo sta compiendo per eliminare alcuni nodi e correggere taluni mali antichi dell'Italia. Torniamo in studio. Allora, questo patto del Nazarene, non ho mai avuto modo di approfondire con lei. Le piace o non le piace questo coinvolgimento di Forza Italia nelle riforme? Secondo lei è giusto o doveva essere un po' più oltransista il suo partito? Io credo che Berlusconi fece all'epoca un passo importante perché andò nella sede del PD, nel Partito Democratico, proprio per discutere delle riforme. E se si fossero fatte riforme importanti, io credo che sia giusto perché le riforme si fanno con la maggioranza più ampia possibile, non si può fare soltanto per una parte. Per me lo che stando è che queste riforme oggi noi le vediamo. Abbiamo visto una riforma del Senato che io non condivido molto. Forse sarebbe stato meglio cancellare il Senato e mettere al posto del Senato e la conferenza dello Stato-Regioni che di fatto è rappresentata dalle regioni e dallo Stato. Quindi forse avrebbe avuto un ruolo diverso. Al momento c'è la legge elettorale che ancora non si sa bene se andrà in porto. Una legge elettorale in cui il capolista di fatto entra automaticamente e il resto sarà a preferenza. Già questo un po' mi consola perché di fatto finisce quella storia di essere candidati soltanto dall'alto senza poter competere a livello locale perché c'è chi vuole la preferenza e chi invece non la vuole. Io preferisco che ci sia la preferenza perché credo che sia giusto. Di fatto poi riforme importanti, abbiamo visto la famosa riforma del lavoro, io vedo una riforma che non porterà nessun frutto perché il grosso problema del nostro paese non è come assumo e quando assumo, ma se le imprese non hanno lavoro non assumeranno mai. Il grosso problema è che oggi l'economia sta a pezzi, le banche, non ne parliamo nei confronti delle imprese, invece di cercare di venire in controllo, hanno già da tempo stretto i cordoni, quindi le difficoltà non ci sono commesse e quindi la difficoltà occupazionale è veramente drammatica nel nostro paese, in Italia, nella nostra provincia, ma credo anche in ora. Quindi credo che il governo debba fare qualche riforma che veramente dia la possibilità che le imprese possano cominciare a rilavorare e cercare di avere anche l'opportunità di poter dare lavoro a tante persone che lo hanno perso, ma come tanti giovani che non trovano lavoro. Però riforme importanti al momento non le vedo, non le vedo nemmeno sulle tasse perché mi pare che ha regalato, poi abbiamo pure le intercettazioni di Renzi che dice che gli italiani sono puntato per 80 euro. L'intercettazione non l'ho scritta io, la leggo sui media come leggi sicuramente sui media tu, quindi di fatto però Renzi dava 80 euro e aveva detto che con la tasi non avrebbe portato un aumento, invece mi sembra che la tasi è quasi raddoppiata della tassa sulla casa. La casa che gli italiani, lo Stato gli ha incuccato, le banche che bisognava avere la casa perché la casa è del futuro, la casa è il consolidamento di una famiglia, di fatto oggi la casa serve a poco, ma anzi ha dei costi molto alti per la gestione e le tasse. Concludiamo il capitolo delle riforme con il secondo pannello dalla reggita del nostro Marco Stanzione, ieri c'è stata attenzione tra azzurri e democratici, il capogruppo forzista della Camera Renato Brunetta aveva chiesto di posticipare il voto sulla riforma costituzionale dopo la scelta del prossimo inquilino del Quirinale, richiesta respinta però dal Partito Democratico e Brunetta ha ricordato tutte le modifiche unilaterali che Renzi ha portato al patto del Nazareno della legge elettorale. Le incomprensioni erano partite domenica quando Berlusconi aveva detto che anche la scelta del capo dello Stato rientra nel patto, affermazione smentita da Serracchiani e Guerini. Oggi Laboschi ha assicurato che l'intesa con Forza Italia riguarda anche la decisione di procedere con le riforme prima di votare il successore di Giorgio Napolitano, certo, afferma il bel Ministro, anche perché il capo dello Stato ancora non si è dimesso e non possiamo bloccare tutto in attesa di una data che non si sa quale sarà, su questo anche Forza Italia è d'accordo. Ecco, una domanda che le vorrei fare, lei che lo ha conosciuto anche personalmente, lo conosce personalmente Berlusconi, non crede che in questa fase sia un po' arrendevole rispetto a Renzi? Sicuramente come una parte anche del partito, parlo di fitto, avrebbe scelto una politica diversa, quella anche di contestare le attività politiche di questo governo. Si è fatta una scelta diversa, di compromesso, non ci dimentichiamo che Berlusconi in questo momento è servizi sociali, quindi non è che può anche alzare troppo la voce, perché gli è stato detto molto chiaramente, se parli troppo li rimandiamo in un posto un po' diverso, quindi credo che anche questo possa incitere molto sulla posizione di Berlusconi, spero che a febbraio, quando finisce questa situazione che ha oggi il nostro Presidente, si possa veramente cominciare a fare politica, a fare opposizione anche a questo governo in maniera molto più forte. E lui ha detto che quando torneranno in campo torneranno anche gli elettori, ne ha convinto anche Gianna Rilli? Ma io lo sono convinto perché senza Berlusconi credo che andremo veramente a minimi termini, ci ricordiamo quando Alfano deve essere candidato a premio e i sondaggi lo decidavano al 9%, poi non abbiamo vinto le elezioni per 120 mila voti, insomma, quindi Berlusconi ha ancora il suo peso, ha ancora la sua comunicazione, ha ancora tanta gente, è chiaro che Berlusconi deve anche capire che bisogna anche organizzare il territorio perché un esempio è Frosinone, ma fortunatamente o sfortunatamente la situazione che abbiamo a Frosinone non è solo Frosinone, in molte province d'Italia c'è una situazione chiaramente diversa, non unita, soprattutto non unitaria e quindi sicuramente ci fa perdere consenso, questo ne sono più che convinto. Allora entriamo nel vivo, partiamo dall'acqua. I cittadini sociali perché stanno pagando così tanto, Presidente? All'acqua ne abbiamo parlato tantissime volte, io sono amareggiatissimo per quello che è successo, perché anche se qualcuno prova in maniera subito, mi dicono addirittura anche gli stessi dipendenti a CEA alla sede quando vanno gli utenti a protestare oppure a contestare la bolletta, dicono ma la vado a dire agli annarilli perché oggi paga questi conguagli. Io vorrei cercare di spiegare questa sera, nel poco tempo che abbiamo, che finché io mi sono opposto in maniera seria e sempre tecnica e legale alla CEA, la CEA non l'ha mai spuntata ad avere risorse e somme che non gli spettavano e che non gli spettano. Io ho lasciato, e sappiamo tutti, in parte i motivi, in parte la mia scelta, anche se voglio ricordare che la grande responsabilità non è del Presidente dell'Assemblea che di fatto è il Presidente della provincia, ma ce l'hanno i sindaci e la responsabilità soprattutto dei sindaci di non approfondire quello che hanno votato. Io prima che si votasse un atto che mi presentava la CEA l'ho sempre fatto consultare da avvocati e tecnici e alla fine la risposta è sempre quella alla CEA di limitarla nell'applicazione delle tariffe. Alla CEA a marzo ha avuto un regalo da 22 sindaci che secondo me in parte forse l'hanno fatto inconsciamente, che non conoscendo la documentazione, perché di fatto non è stata letta la stessa consulta in cui si diceva soddisfatta del risultato, due giorni prima diceva cosa diremo ai sindaci dopo domani, in cui si va a approvare un documento complessissimo. Ecco, cosa hanno votato questi sindaci di fatto? Questi sindaci hanno approvato un piano di investimento che non conoscevano il tipo di investimento che andava fatto. Hanno votato la possibilità alla CEA di recuperare i famosi 75 milioni di conguaglio 2006-2011, non dovuti dai conti che ho fatto ieri, contestato alla CEA, quei 75 milioni, non sono dovuti, noi infatti stiamo facendo ricorso. Hanno votato le nuove tariffe che sono veramente fatte fuori dalla grazia di Dio, ma addirittura hanno votato, noi ci siamo accorti, perché mi sono un po' riletto la documentazione, che la CEA ha pagato anche gli oneri concessori degli anni arretrati, invece deve dare ancora 62 milioni. Questo documento andava contestato singolarmente, sicuramente prima dalla STO, ma la STO purtroppo è incompetente, ha sempre dimostrato di non sapere addirittura il sindaco SAO a chi sui documenti la CEA e lo STO risponde no, ma le devi chiedere la CEA e noi non ce l'abbiamo e credo che domani vada in maniera anche un po' più ferma a chiedere la documentazione. Di fatto hanno votato un pacchetto, non ci sono reso conti, qualcuno, semmeno qualcuno invece sapeva bene quello che avrebbe votato e dal marzo in poi sta succedendo il fine di mondo e molti politici che oggi cercano di lavarsi la bocca, cominciano un po' a dire confrontiamoci, parliamo col garante, parliamo con la CEA. Fino a ieri siamo rimasti, fino a prima dell'ultima tornata di bollette, che sono quelle che cominciano a pesare, io e la SAO a combattere contro il colosso CEA, perché non ci siamo fermati, abbiamo fatto il ricorso, io stasera stessa esco da un riunione di avvocati e tecnici proprio per continuare questo percorso e questa battaglia. Di fatto la CEA oggi sta applicando delle bollette secondo il mio punto di vista e stiamo facendo reclamo sia per i conguagli sia per la cauzione. I conguagli perché? A parte il fatto che qualcuno dice colpa degli annarilli, i conguagli sono nel 2006-2011, io sono arrivato al 2009, giugno 2009, quindi se poi potessi responsabile non ne posso essere responsabile di questi sani. Conguagli la bolletta, la carta dei servizi, prevede che qualsiasi importo venga messo in bolletta deve essere specificato nella quantità, nel costo, nel periodo, ma ce l'ha messo conguagli, non si capisce anche il sistema che ha applicato a me o a un altro utente, su che base, se l'ha applicato a metro cubo, se l'ha applicato a un nucleo familiare, a metri quadrati, non si capisce. C'è un coefficiente che nessuno conosce in cui applica per pagare questi conguagli, che dai conteggi che abbiamo noi non sono dovuti alla CEA, perché la CEA già li ha presi i soldi. Poi abbiamo la cauzione, la stessa cauzione che viene stata applicata senza che l'assemblea dei sindici sapesse nulla e anche lì la cauzione viene applicata in base dei coefficienti di le ultime letture, ma se le letture la CEA non le ha fatte, le sta cominciando a fare adesso, come ha fatto ad applicare dei coefficienti, degli importi, sicuramente a bolletto. Quindi noi contestiamo in questa fase, purtroppo possiamo contestare due cose, la cauzione e dettagliatamente l'abbiamo fatto con il ricorso che abbiamo messo anche su internet, chiunque lo può prendere, stiamo facendo degli incontri sui propri paesi, che in primo momento c'era poca attenzione, adesso che invece stanno arrivando bollette salatissime addirittura, ma io dico quando a un cittadino esce una bolletta di 14.000 euro, ma lo gestore secondo me deve chiedersi che c'è qualcosa che non quadra, perché 14.000 euro mi sembra veramente pazzesco per una civile abitazione. È un'utenza domestica? Un'utenza domestica, ad Alati, c'è un'utenza domestica che gli sono arrivati 14.700 euro di bolletta, ma io dico 8.000 euro, 10.000 euro, 6.000 euro, sta arrivando veramente tutto, ma quello che dico oggi, che chiaramente non possiamo parlare di due, c'è una grande responsabilità dei sindici. Allora, mettiamo che è successo qualcosa, non avete capito, non avete letto la documentazione, perché qualcuno ha anche gridato, ma finalmente c'è stato qualcosa approvato, ma io se approvavo quello che diceva la CEA, non avrei sempre avuto nessun problema, ma non era applicabile perché la CEA chiede, e la CEA tra virgolette fa il suo lavoro, è una società di capitali, è una società che vuole fare affare e guadagni, non sta facendo investimenti, perché la gestione è veramente a minimi termini. L'appello che faccio io è che inizieremo a fare, diciamo, andando avanti, è che i sindici, siccome hanno il potere di fare, diciamo, tra virgolette, la responsabilità, proporremo di andare in assemblea, in autotutela, a prescindere di quello che pensa il Presidente della provincia, che non può pensare quello che ha fatto prima il mio predecessore, Scalia, perché insomma viene dalla sua stessa corrente e credo non possa mai rinnegare l'operato di Scalia, andare in assemblea, revocare in autotutela la delibera di marzo, mandare tutto il pacchetto all'AIG e l'AIG poi si pronuncia, anche perché, e chiudo questa parte, se le cose vanno avanti, voglio dire ai telespettatori che ci ascoltano, la terza fascia, fra qualche mese, se andranno avanti come hanno deliberato purtroppo a marzo, arriveremo a 9,90 euro, diciamo, la terza fascia. La terza fascia che sarebbe, Presidente? La terza fascia sarebbe quando, ci sono i metri cubi, aspetta dovevo averlo qua perché l'ho preso, ora c'è l'agevolata che va da 0 a 30 metri cubi, come ho detto stasera 4 sciampi in una famiglia, e la paghi un importo 0,40, dalla seconda fascia va da 31 metri cubi a 108 metri cubi, 0,850, poi viene l'eccedenza che va da 109 a 162, va 1,90, la seconda eccedenza 2,70, la terza che prende quasi tutti gli utenti, va oltre 216 metri cubi l'anno e va oggi a 3,79 e che vediamo ci sono bollette già oggi molto esose. Questa terza fascia, anzi ti leggo tutte le fasce, va a 1,017 la prima, l'agevolata, 2,16 la base, 4,85 il primo, 6,91 il secondo, la seconda fascia, la terza fascia va a 9 euro. Come ha detto l'amico mio Cinelli a Monti San Giovanni di Campano, l'acqua pare che costa più del gas, con la differenza che il gas viene dalla Russia, mi dicevo in una battuta semplicistica, ma vera, insomma è un po' più complesso da smontare gas, perché il gas non può avere una perdita, non è l'acqua, quindi stiamo arrivando veramente a una cosa che è folle, quindi io mi auguro che i cittadini, tra virgolette, si incazzano seriamente, scusate il francesismo, prendono di petto i sindaci che debbono andare in assemblea e siccome non c'è nessuna responsabilità, deliberano in autotutela, la revoca della delibera e mandano il documento che aveva proposto la dottoressa Savo all'assemblea di marzo, all'Aegy, e l'Aegy si esprime in base ai documenti che sarebbe giusto contestare con dei tecnici in gambe, che le aveva cose che ho nominato io, perché l'ho già detto qualche sera in qualche riunione, io ho cambiato molti tecnici in provincia, è vero, ma non so perché ho cambiato i tecnici, perché quando si faceva il primo incontro, si vedevano le carte e si faceva la guerra del 15-18, si poteva fare la guerra del 15-18 alla CEA, la seconda volta già erano nicchiavano, la quarta volta, sa, ma la CEA ha proposto una transazione, quindi vuol dire che la CEA aveva contattato, senza un platitubbio, il tecnico che aveva nominato, e l'ho cambiato, 4-5 di persone, alla fine ho trovato un gruppo, che è lo studio Gemma, qualificato e preparato, anzi, oggi vediamo che i stessi avvocati del passato hanno difeso contro il ricorso che noi abbiamo presentato, e quando l'avvocato mi ha comunicato che al TAR, il Presidente ha fatto una ringa abbastanza forte nei confronti del nostro avvocato, e al posto di Farnetani e di Galbiati, mi sembra che lo studio, un altro nome, lo studio della CEA, si sono presentati due neo-avvocati, che non hanno parlato, non hanno detto una parola, e quindi quando mi ha detto questo la sera prima, io ho detto, stai tranquilla che domani mattina noi perderemo in questa fase, all'altar, la causa. La mattina, non è entrato in merito, dovremmo andare in appello. Allora, abbiamo già due telefonate, c'è il record per l'arrivo delle due telefonate, della CEA, è così. Allora, partiamo con Francesca da Roma, benvenuta Francesca. Buonasera a voi, io chiamo da Roma, è fortuna, diciamo, che c'è una fede, e faccio un cammino di fede, se no io non so cosa farei. E vabbè, comunque niente, io da un anno, io vivo in una situazione molto disastrosa, disagiata, vivo in un appartamento occupato, eccetera, e non ho nessun aiuto, e sono rimasta vedova da pochissimi mesi, ho due figli, una 23 e una 17, e da un anno che c'è la luce a nome mio, parliamo appunto della CEA, e ho sempre pagato dalle 50, io c'ho la bolletta a fasce, che poi manco ti spiegano che cazzarola, permettetemi, significa. Insomma, io da 8 ore a 8 ore pago varie fasce, un po' di parole, io dovrei usare la lavatrice solo la sera. Insomma, a conclusione dei fatti, ho pagato da un anno a questa parte, fino agosto, dalle 50, massimo 100 euro, gli stessi elettrodomestici, non ho stufe elettriche, ho sempre pagato quella città. Il 20 agosto mi è arrivato un conguaglio di 1700 euro, a settembre mi è arrivato un altro conguaglio di 600 euro, e adesso mi è arrivata una bolletta di 250 euro. Questa parla dell'energia elettrica, signora? Sì, 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 della luce. Perché Roma, a Roma, Acea, qui in provincia di Frosinone, Acea gestisce soltanto il servizio idrico, a Roma invece c'è anche la situazione dell'energia elettrica. Signora, abbiamo altre telefonate, grazie per la sua testimonianza, vedremo anche di parlare di questo con il Presidente, ne parliamo dopo che facciamo un'altra telefonata. Grazie, signora Francesca. Abbiamo Caterina da San Giovanni in carico. Sì. Buonasera, Caterina. Caterina? Ecco. Non c'è Caterina. Non c'è Caterina. E allora, vabbè, quello è un altro problema. Bisogna leggere il contatore e verificare se, diciamo, il consumo fatto dalla signora, perché come abbiamo capito è Enel, l'Enel a Roma, gestita anche dalla Cera, il discorso elettrico, e verificare i contenci. Purtroppo altro non possiamo dire. Anche perché sarebbe... Se l'acqua è diverso, qualcosa siamo un po' più informati. Siamo un po' più ferrati. Però magari può aprire una società di consulenza, forniture e tucur. No, stiamo facendo dei giri, abbiamo aperto un ufficio, sono io personalmente a disposizione con altri amici, e riceviamo le persone, in cui chiaramente non possiamo fare ricorso, perché al momento non possiamo fare questo, però stiamo cercando di fare delle lettere di contestazione, perché lo provvede alla carta dei servizi, e la Cera dovrebbe rispondere per legge entro dieci giorni, ma di fatto ancora non sta rispondendo a nessuno. Ma anche sulle telefonate che vi fanno, perché sappiamo che ci sono delle società di recupero crediti, beh, io vi posso soltanto dire una cosa, potete tranquillamente riattaccare il telefono, oppure digli quello che pensate, perché la Cera, se vuole chiedere un pagamento, deve legittimamente, vi deve scrivere. E poi un'altra cosa simpatica, abbiamo Caterina, abbiamo ritrovato Caterina. Perfetto, Caterina, perfetto. Caterina? Sì? Eccoci. Allora a me mi è arrivata una bolletta di 644 euro nel 2013, no? Sì. 644 euro e mi hanno realizzato. Adesso mi è arrivata 232 euro, ho tutta serie di pagamento, però noi siamo due persone, io e mio marito. Allora, secondo me, su quella bolletta lei vede che alla fine della bolletta, credo, ci siano delle voci che sono con guagli e cauzione. Sì, dice con guagli, ma io sono, scusa, io sono quattro anni che abito qui, 644 euro, non ho mai visto, eh. Allora, deve verificare quello e secondo me può fare la contestazione, poi deve verificare il consumo con il contatore, che io non so, non so. Il contatore è 0061. E sull'importo che sta scritto sulla bolletta? Cioè come consumo? Io sono anziano. E quello bisogna verificare quello là. Una domanda, ma sono venuti a fare la lettura? No, quando vengono mai a fare la lettura? Questa è una dimostrazione a viva voce, la CEA per poter mettere sia i conguagli, sia la cauzione, ma anche le fasce, no? Le fasce vengono calcolate in base al consumo. Quindi tu invece la CEA oggi fattura senza lettura e mette la terza fascia. Quanti metri cubi ha in terza fascia? Lui riesce a leggere? Sicuramente la signora avrà un tot metri cubi sulla terza fascia. Che è forfettario. Che è forfettario perché se l'ha inventato. Ora ti immagina 600 euro di bolletta dell'acqua senza fare nessuna lettura perché? Mai fatto. È veramente illucinante. Questa è l'ennesima dimostrazione. Allora facciamo un discorso semplice. Quante persone ci sono in provincia di Frosinone come la signora Caterina? Tantissime che stanno avendo queste bollette. Ok. Cosa devono fare queste persone? Secondo Antonio Diandarilli, naturalmente. Secondo Antonio Diandarilli queste persone devono pagare soltanto il consumo dell'acqua, togliere il conguaglio e la cauzione, però bisogna comunque fare una contestazione alla CEA. Bisogna mandare una lettera che possiamo mandarla, se poi mi danno il numero li chiamiamo. Successivamente dobbiamo passare, è quello che abbiamo fatto in incontro questa sera con i legali, andremo dal giudice ordinario per contestare e se, mi auguro di aver ragione, ma sicuramente la CEA farà appello, quindi ci vorrà un po' di tempo, si può fare successivamente una class session per chi ha pagato. Però è un problema lungo. Io dico, non avete paura, perché non succede nulla. L'importante è pagare, purtroppo anche con l'aumento, grazie ai sindici che hanno votato, l'acqua va pagata, perché qualcuno che dice che noi diciamo che non va pagata, è falso. La bolletta, il consumo, ma va pagato giusto. Fermo, restante che poi ci sono tantissimi altri problemi, mancati investimenti, mancati manutenzi, che è una cosa più complessa. Noi oggi diciamo questo, con guagli e cauzione, ma non si può pagare per quel motivo, e noi l'abbiamo scritto nel nostro ricorso, perché la CEA non fa, non lo legge i contatori, quindi noi ci troviamo persone che si trovano in eccedenza a pagare 3 euro, che può anche darsi, che non ci stanno, perché bisognerebbe controllare la bolletta della signora Caterina con il consumo in base al contatore, anzi, io invito Caterina che se ogni mese si scrive il consumo che lei fa dal contatore, riesce a avere anche una situazione da poter poi contrapporre a un eventuale... Vabbè, comunque il numero della signora Caterina lo abbiamo qui in redazione e verrà ricontattata dallo staff... Sono contento che questa sera abbiamo una dimostrazione diretta che la CEA sta cominciando adesso, ma non ha mai o quasi mai fatto letture. Ah, ti dicevo prima, sulla consegna delle bollette... Grazie signora Caterina, non la vogliamo mantenere troppo al telefono, il suo numero comunque lo abbiamo noi e lo diamo al presidente Iannini. Immagino che la CEA sta telefonando a persone per sollecitare il pagamento dove ancora non hanno ricevuto la bolletta. E questo sì, ne abbiamo dato quantità. Ma mi deve spiegare la CEA e qui io appensa male come diceva Androtti non è peccato, no? La raccomandata alla posta che è sicuro che arriva costa 4 euro e qualcosa. La società privata costa a debito all'utente poi purtroppo perché sta in bolletta 5 euro e 20 quindi costa più della posta non vorrei che sotto qua e qua vediamo società da Messina insomma da Casetta da Napoli sono altre cose no ma visto quello che sta succedendo a Roma posso pensare tutto anche perché la CEA nel calderone di Roma ci sta tendo questo qui però lo sta dicendo lei lo dico io senza problemi non ho anche perché ho detto nel calderone di Roma certo certo non ho detto nulla di male no 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 ci sta anche la CEA anche perché abbiamo visto anche i figli di presidenti della CEA di Frosio adesso un di Allama guarda caso che sono poi dell'aschieramento politico di chi governava Roma quindi non è che sono di cose che stanno scritte che stanno sul sito internet sì 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 come diceva l'amica tesoro internet internet basta andare su internet e sapete quello che sto dicendo io questa sera andiamo avanti in attesa naturalmente di altre di altre testimonianze dalla provincia oggi si è riunita la consulta nella giornata di ieri si è lavata le mani con l'acqua con il Pilato abbiamo letto l'acqua quella lì Cesito Vano giustamente ha tirato una conclusione Cesito Vano è un collega un giornalista della provincia che ha messo in evidenza che la consulta si è lavata le mani ma la consulta si laverà le mani perché non sa di che sta parlando nella consulta ci sono sindaci che non hanno letto un documento ma l'arroganza anche di sindaci del mio partito che non hanno avuto nemmeno il buonsenso di dire Iannarilli ma siccome ti sei interessato della CEA ma giusto per avere l'informazione non perché erano obbligati a chiamarmi ma ci puoi dare a parte che abbiamo pubblicato un lavoro di un anno e ringrazio anche chi ci ha lavorato a quella a quella documentazione un anno dove abbiamo raccontato dall'inizio della gara a oggi e se andiamo a leggere io se tu hai tempo invece di leggere qualche libro leggi quella direzione perché così la prossima volta sei molto più informato quando non ci stai ci sono altre persone ma ci sono di tutti colori faccio qualche esempio sulla transazione di 10 milioni e 700 mila euro c'è un errore matematico di somma dove hanno regalato alla CEA 900 mila euro questa è una transazione che c'è la famosa transazione di 10 mila e 700 euro che alla CEA non ci si doveva dare manco per niente oltre che quella transazione poi scatta un aumento allucinante la somma la somma delle sanzioni era meno 900 mila euro 9 milioni 800 mila euro loro gli hanno riconosciuto 10 mila e 7 ma ti faccio un altro esempio nel 2007 questi sindaci hanno approvato diciamo le spese che la CEA ha riportato per chiedere gli aumenti nel 2007 chiedono all'assemblea che vota rimborso delle spese del personale sono atti che se poi c'hai tempo li puoi riscontrare perché noi abbiamo ricopiato e messo in evidenza solo gli atti che sono riscontrabili personale a CEA 11 milioni e 500 mila euro circa per l'anno 2006 bilancio a CEA pubblicato ufficialmente vai sul sito esce il bilancio a CEA personale spesa del personale che è una voce specifica del bilancio 7 milioni 4 milioni regalati in più alla CEA quindi lei sta parlando che con queste transazioni rispetto alle spese reali sono state regalate delle somme è quello che è documentato perdiamo il conto dei soldi che stiamo regalando alla CEA abbiamo perso il conto e la mia battaglia io voglio ribadire non è politica contro qualcuno io non ho nulla a che fare con la CEA non ci voglio per nulla a che fare io non sono andato né a pranzi e né a cene come invece hanno fatto altri con la CEA io alla CEA la cosa che mi sono abbattuto dal primo momento ha risposto e l'è stato detto anche nella trasmissione che ha fatto il tuo direttore qualche settimana fa la CEA nel due metri risponde a una gara la CEA è una società privata società per azioni risponde e oggi che accusa in continuazione ma non avevo i dati i dati sbagliati noi abbiamo verificato i verbali la CEA ha fatto i sopralluoghi comune per comune 55 sopralluoghi quindi sappia perfettamente con dichiarazioni anche della società francese che era l'advisor della CEA dove scrive che il 70% delle condutture sono scadenti hanno perdite fa il 30% di ribasso vince e c'è un piano diciamo un piano d'ambito con il prezzo dal 2002 al 2032 per 30 anni quindi la CEA deve rispettare la mia battaglia il contratto non posso raddoppiarti il costo dell'acqua solo perché i sindaci o perché mi hai presentato qualcosa che io non ho capito quindi la battaglia mia è stata sempre quella del rispetto del contratto quindi io invito l'ennesima volta i sindaci a tornare in assemblea a parlare con chi ha studiato e ha letto la documentazione se non si fidano si facciano aiutare da consulenti e da avvocati e anche sui consulenti qualcuno dice ma Ianerilli ha speso un sacco di soldi ma questo ne parliamo dopo perché per rimanere in tema di acqua abbiamo una piena che ci sta arrivando di telefonate allora partiamo con Yolanda D'Averoli signora Yolanda veloce ci spieghi il problema grazie buonasera eccoci qua buonasera buonasera a voi anche a Ianerilli buonasera prego prego buonasera tenda ma io vorrei sapere solo una cosa che bisogna fare veramente questa CEA io sto a vedere la televisione e sto a sentire un po' di tutto di voi bisogna vedere bisogna che ci date un consiglio bisogna che fate qualcosa a voi ma sta CEA guarda sto spampati veramente signora intanto lei quando incontra il sindaco Gretaro gli domandi perché ha votato e ha fatto commentare l'acqua abbia il coraggio il sindaco Gretaro a dirle perché se ha capito perché ha votato almeno questo comunque io vado sulla comune devo parlare con questo scemo qua no signora non è scemo il sindaco beh l'ha votato è stato un po' allegro il scemo del sindaco no no questo signora no sono tutti bravi brava poi dategli voti guarda non lei ma tutti quanti gli è puliti ora mi gli odio tutti quanti no signora no no questo questo no signora Iolanda purtroppo mi dà anche la possibilità di rispondere su una cosa in cui io non condivido diciamo anche l'opinione pubblica non siamo tutti uguali signora lei si deve mettere in destra come tante persone è come se io dicessi che tutti i cittadini sono lati ma siete voi che dovete dare una mano a noi no lo so però lei deve cercare di distinguere non è facile purtroppo perché insomma il mamma ha un sacco di soldi mia nuova ci aveva arrivato due bulleti di 130 euro è separato non è un lavoro non è una mamma non è Gesù Cristo non si sa come cavolo si deve parlare questo purtroppo adesso che il problema comincia a essere delicato qualche sindaco se ne comincia a accorgere lei deve se vuole deve andare o a una società associazione dei consumatori che le predispongono il ricorso lei adesso può soltanto togliere il conguaglio e la consune però gli serve una persona che gli verifica questa cosa non credo che possa lei farla direttamente sua figlia sua nipote qualcuno che può vedere questo poi nella speranza che si possa andare avanti e che i sindaci trovano il coraggio che ammettono perché può succedere che si può sbagliare e si torni in assemblea e si voti la revoca di quella maledetta delibera perché perché si vorrà parlare con il sindaco io non ho paura del sindaco io non ho paura di nessuno ma anche perché il comica torna assolutamente mi piace deve far botte signore è soltanto no però non conosce assolutamente no 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 ma infatti uno dice anche uno dice anche per scherzare non ho paura di parlare con loro perché stiamo arrivando a schifezza condivido pienamente signora signora anche in questo caso c'è il suo numero qui la posso contattare la faccio chiamare la chiamiamo diamo tutti i numeri al presidente Poi se non vi richiamano chiamate noi qua che lo bacchettiamo noi l'onorevole ci sono ritornata ma io posso andare sempre a presto a loro c'è ragione grazie signora grazie signora Iolanda abbiamo Enzo Danagni Enzo buonasera buonasera prego buonasera 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 soprattutto anche al presidente se abbassi la televisione così non c'è l'eco se abbassa la televisione non c'è l'eco e non le dà fastidio allora a me è arrivata la bolletta dell'acqua con una cifra totale complessiva di 70 euro e 57 divisa in quattro fasce allora tariffa agevolata tariffa base eccedenza 1 eccedenza 2 eccedenza 2 per un totale di 70 euro e 57 e mi arriva la bolletta su un foglio c'è scritto 70 euro e 57 sul bollettino da versamento su 193 euro ma come si spiega io la ruota dell'acqua ho pagato sempre intorno a 50 60 70 euro questa è la seconda bolletta che mi arriva in queste condizioni allora la precedente l'ho pagata perché per questione di tempo che non c'è stavo impegnato e non frutto vabbè paghera tante volte saranno fatte qualcun guaglia non mi sono andato a mettere a legge adesso è frevata questa un'altra volta 193 mi sono messo a legge e sono detto ma qui cosa si spiega ma qua sta scritto 70 e me ne arrivano 190 allora l'altro giorno sono stato sopraffiugio alla CEA sono andato là c'era una fiera ci stavano un macello di gente sono preso il numero sono fatta la fila questo mi ha detto sono portato il numero del condatore mi ha detto dice sì dice guarda mi ha detto dice ci stanno 24 euro 14 metri cubi di acqua di più dice però le recuperiamo alla bolletta precedente poi almeno che mi era nervosito perché sono stato dopo ora aspettare là e me ne sono dimenticato da faccia sta domando sono detto ma se qua stanno 70 euro perché me ne arrivano 193 ma sta 320 euro da dove si sono partiti che roba allora stamattina mia moglie scusa un attimo però che la sto parlando che devo spiegare tutto stamattina mia moglie andava a Nani al GAF il sindacato della Cisle e lì c'era una fiera di gente stanno tutti a portare le bollette e là stanno a riscrivere le bollette e praticamente stanno pagando ci stanno facendo le bollette stanno pagando esclusivamente solo il consumo non è quell'altro perché se io ho consumato 70 euro ovviamente loro fanno la bolletta e pagano 70 euro ci sono andato stamattina e ci stavano e hanno finito il numero ci sono andato stasera e hanno finito il numero ma alle 4 mi vado un posto là voglio vedere ma ma dico ma se può mannare la gente ci batteno la testa a destra a sinistra ma questa gente che fa questi lavori sta a brigare dico io ma che tempestino lei di dov'è lei di dov'è di Anagni di Anagni io sto di San Filippo per il figlio di Anagni volevo sapere se il sindaco di Anagni è votato no il sindaco di Anagni perché il presidente di Anagni ha tutti i sindaci schietati quelli che hanno votato e quelli che non hanno votato comunque grazie signore il sindaco di Anagni è calzetta sì sì a marzo non ha votato a favore allora a luglio ha votato a favore a marzo non ha votato non era presente però a luglio l'aumento maggiore l'ha fatto a luglio e lui avrà presente calzetta e credo che non ho nulla contro questo sindaco però credo che non aveva conoscenza minimamente di quello che andava a votare quindi invito l'ennesima volta i sindaci perché sentire queste persone questo signore si è partito da Anagni è andato a Fiugi si è partito dalla casa è andato al centro del CAF a Anagni ci è andato tre volte e non è riuscito a fare niente perché ha trovato la fila domani mattina si trova a alzare alle 4 per poter essere uno dei primi a fare ma i sindaci ma se li fanno un esame di coscienza in un momento economico sociale che noi viviamo centinaia di persone anche anziani che preferiscono forse pagare perché non hanno nemmeno la possibilità di andare a un CAF o andare a fare ore e ore di fila davanti alla CEA io solo questo vi chiedo fate un esame di coscienza e affrontate il problema in maniera seria si può sbagliare avete commesso un errore anche superficiale può succedere ma avete il dovere il diritto di revocare questo atto per cercare di fare sì che questa gente non faccia quello che sta facendo in questo momento con me la CEA non è mai successo quello che sta succedendo adesso quindi qualcuno che pensa di termine responsabilità se sbaglia di grosso altro giro altro comune abbiamo Gino da Strangola Galli comincia a vedere se Strangola Galli era nell'elenco Gino buonasera Gino ancora non risponde Gino intanto il presidente va a controllare lì eccolo qui ecco Gino Gino buonasera presidente buonasera le volevo far presente una cosa siccome io sul giornale di tempo fa c'era una notizia che diceva che la CEA ha risposto a una cara d'asfalto per 699 milioni d'euro sì con lo scondo dopo però quasi 600 milioni il presidente Scalia sì in seguito gli ha dato altre 700 milioni d'euro senza cara d'asfalto no allora ti spiego che è successo quindi la CEA non avrebbe titolo per gestire l'acqua pubblica come si chiama scusa Gino Gino ti spiego che è successo perché hai letto e in parte hai detto giusto la CEA ha risposto a quella cara d'appalto e l'appalto gli viene assegnato per circa 600 milioni per 32 anni 699 milioni d'euro nel 2007 già nel 2006 comincia a dire che c'ha difficoltà non riesce ad andare avanti nel 2007 la maledetta delibera del 2007 quel famoso condensioso che poi la convine l'anca ad un lato ma è rimasto in piedi il contratto privatistico lì la CEA presenta un conto di un aumento di 20 milioni per costi operativi in più l'anno per 26 anni era come dice il signore 600 milioni di euro in più e io da lì ho iniziato la mia battaglia perché quello che era stato approvato era totalmente illegittimo però caro Gino ci vorrebbe anche qui i sindaci che abbiano il coraggio di annullare quell'atto perché io ci ho approvato un paio di volte a farlo ma non ci sono riuscito purtroppo quindi ritorniamo a bomba e qui ritorniamo proprio a far capire al cittadino la responsabilità di quello che sta succedendo sono di 22 sindaci che hanno votato a favore ma la responsabilità per cambiarla e il potere lo hanno solo i sindaci quindi andate ai comuni cercate il sindaco in massa e ditegli che si mettesse d'accordo civilmente però a dire ho detto andate al comune a dire al sindaco che si mettesse d'accordo con gli altri sindaci e torno in assemblea perché la prossima assemblea io non sono andato più in provincia da due anni la prossima assemblea io ci starò là e al costo da fammi arrestare tra virgolette i sindaci devono assumere la responsabilità di votare e risolvere questo problema ai cittadini che sono esasperati io mi vergogno per quello che hanno fatto per quello che sta soffrendo la gente perché in un momento delicato questi hanno tra virgolette rubato la serenità alla gente umile che in il momento di Natale si ritrova in un momento delicato a delle bollette veramente fuori dalla grazia con la differenza che molte persone come ha fatto la bolletta antecedente dell'amico Gino ha pagato molte persone e quanti ce ne sono? l'altra persona ha detto che la prima bolletta già l'aveva pagata quindi purtroppo gran parte delle bollette il cittadino la persona anziana che ha la mania della bolletta o la paura che gli staccano l'acqua va a pagare e questa è un'ingiustizia sociale che va va tolta e va combattuta grazie Gino abbiamo un'altra chiamata da Strangola Galli è Michele signor Michele Strangola Galli ha votato contrario comunque Strangola Galli ha votato contrario quindi non deve andare dal sindaco no deve andare dal sindaco anche perché quel sindaco serve che vada in assemblea perché ricordo che sindaci Michele buonasera intanto sono 86 sono 86 per la sindaca di Strangola Galli prego Michele una domanda al signor Iannarini sì a me pure mi è arrivata una lettera però non dalla CEI io non ho ricevuto mai nessuna bolletta di pagamento però la CEI A25 ha incaricato delle ditte per recupero crediti mi è arrivata una lettera da Messina dalla FIRE dicendo perché io dovrei pagare non ho pagato la bolletta che era in scadenza del 39 del 2014 che non gli è arrivata a me non mi è arrivata mai nessuna bolletta a casa mia purtroppo io dopo ho chiamato perché io non sono uno che si ferma ho chiamato il numero telefono che ho chiamato direttamente la FIRE di Messina la FIRE di Messina mi ha detto che lei io non avevo pagato io le ho detto solo queste servite però io non ho ricevuto nulla nessuna bolletta di pagamento non so i metri cubi che ho contumato esatto e nel frattempo le ho detto pure se adesso a me voi mi dovete mi volevano mandare una bolletta tramite mail però io non l'ho accettata l'ho fatto bene questa bolletta io le ho detto voi mi mandate la bolletta con il consumo del contatore noi controlliamo il numero del contatore se io ho consumato 20 metri cubi pago 20 metri cubi però 21 non li pago se fosse perché questo qui è un atteggiamento grazie grazie una domanda ma le letture gliele fanno? no non hanno fatto mai lettura su tre anni ecco un'altra risposta grazie Michele sindaci ascoltate possiamo lasciare un attimo l'argomento perché avevo un altro argomento da toccare con lei naturalmente acqua 0776 729100 fino a quando saremo in onda e non per molto perché non facciamo notte però il presidente sarà qui a disposizione se volete lasciare il numero il presidente è sempre a disposizione di tutti ma io volevo parlare con lei anche del suo partito di cui lei porta fieramente la spilla e ieri però c'è stato un attacco frontale tra lei e il coordinatore provinciale di Forza Italia ha risposto oggi mi pare ieri l'attacco io oggi non ho avuto tempo il contrattacco con la CEA ecco infatti a che punto è questo partito cosa non va nell'odierno gruppo dirigente di Forza Italia secondo Antonello Iannarilli secondo me io sono stato intanto uno dei fondatori di Forza Italia e quindi conosco bene questo partito io contesto questa gestione dall'inizio della campagna elettorale europea quando si doveva insieme fare delle battaglie e non sono state fatte una gestione autoritaria dove una sede del partito viene poi trasferita nella segreteria diciamo politica diciamo di un rappresentante di quel partito dove non c'è un coinvolgimento sui problemi della CEA anche e ti ricordo che quei 22 sindaci ce ne sono pure qualcuno di Forza Italia in quel coordinamento c'è qualcuno che fino a ieri non parlava del problema CEA non batteva ciglio su quello che è il problema CEA eppure il coordinamento per l'intervenuto adesso quando se fino a ieri nessuno protestava giustamente le cose potevano andare in una certa maniera io sei un giornalista torna indietro tre mesi prima che levo le bollette quante persone sono venute qua a parlare in una certa maniera contro la gestione CEA io ne do atto provaci io ne do atto quindi adesso che vedi la gente quello ha fatto un'espressione negativa nel sito ma stanno tutti incazzati come ho detto prima scusate la parola cominceranno a essere migliaia di persone che stanno perdendo la passione quindi qualcuno si comincia a interessare vogliamo parlare della provincia dove noi parliamo di tutto anche perché poi ho un contributo video da farle vedere politicamente noi io credo che anche un asino sa in tutti i comuni quando un partito si spacca quindi un partito di centrosinistra fa due candidati è chiaro che se entra poi in centrosinistra c'è una buona possibilità di essere eletto lei sta facendo il discorso al contrario al contrario abbiamo avuto la fortuna che la sinistra si spacca con due posizioni forti Pittiglio e Pobbeo noi avremmo dovuto mettere il candidato che non hanno voluto mettere oggi chi si fa dirigente diciamo di partito e noi abbiamo sostenuto per la prima volta purtroppo il partito democratico loro hanno sostenuto perché a parte io non voto ma i miei amici non hanno votato nessuno dei due ma abbiamo votato forse dalle e poi si fanno anche grandi che i voti che hanno fatto successo perché i voti hanno preso tanti voti di forse dalle ma tutti quanti noi abbiamo votato forse dalle ora c'è una gestione padronale ristretta perché ieri sera ho visto gli auguri mi veniva da piange perché quando vedi 40 persone gli auguri di forse dalle avevano abituati a vedere centinaia di persone non posso più accettare questa gestione del partito un partito quando la gente si allontana dal partito perché si allontana credo che per tutto quello che sta succedendo anche diciamo sulla gestione della pubblica amministrazione porta un segno quando io ti raccontavo prima da ragni tre persone mi incontrano e una mi riconosce e mi dice quella è Iannarilli e la signora a fianco dice sono tutti ladri non è possibile accettare questo ora siccome nel primo partito ci sono anche persone che hanno fatto della gestione della politica in maniera negativa adesso sono stanco veramente di continuare ad accettare certi atteggiamenti anche nei confronti proprio delle persone perché poi se qualcun amico mio va eliminato come potremmo parlare anche di presione per quello che sta ne parliamo ne parliamo dopo cerco di essere di essere breve quindi una gestione che io non condivido e allora ho risposto a Ciacciarelli intanto Ciacciarelli voglio ricordare che viene dal Fli quindi addirittura mi parla dell'elezione 2005 ma lì lo stava lui è stato eletto non lo so a San Giorgio Aliti non so di che partito era prima ma sicuro era del Fli quindi una gestione che io non condivido la collegialità non c'è si è fatto coordinamento provinciale di parte ora a questo punto ho detto basta quindi io farò l'opposizione nel mio partito perché non condivido certe scelte e poi ho visto oggi che hai detto ma ma devi fare come la dottoressa Savo che viene alle riunioni la differenza tra la Savo e Ciacciarelli che la Savo ragiona con la sua testa quindi è libera come sono io libero di fare quello che voglio quindi se la Savo ha deciso di andare al Comitato Provinciale ben venga anzi devo dire che mi può rappresentare onestamente e degnamente quello del Comitato Provinciale ma siccome Ciacciarelli non è libero di poter gestire perché non ha avuto mai il buon senso nemmeno di chiamarmi quando è stato nominato penso che per una questione di rispetto chi ha fondato il partito di Forza Italia perché è l'unico che sta in quel partito che ci sta da vent'anni nel bene e nel male nel momento diciamo dove si è fatte delle vittorie importanti voglio ricordare che noi abbiamo vinto per la prima volta la provincia grazie a D'Antonelo Iannaridi che era del centro-destra e che era di Forza Italia quindi se chi pensa di gestire il partito in questa maniera mi troverà in questo momento fortemente critico e dirò cose che sono concrete c'è una gestione fatta male di persone che hanno anche sbagliato e si pensano di essere il leader dei disastri non politici perché potrei fare l'elenco delle cose ma lo farò perché man mano sto raccogliendo anche delle carte che sicuramente porterò a conoscenza anche dei nostri iscritti dei cittadini un dossier su quello che è il nostro partito è la nostra gestione e chi c'è dentro del nostro partito allora se si vuole portare rispetto e equilibrio io non ho nessun problema ma se si vuole pensare di fare la guerra agli annarili a me mi invito a nozze perché la cosa più bella a me è combattere quindi qualcuno che mi dice che sono stato ex per essere ex bisogna intanto essere stato qualcuno io posso dire che ho raggiunto tutti diciamo traguardi importantissimi e sono 23 anni di politica dove nessuno ritornando alla signora che politici sono tutti uguali non è vero nessuno mi può dire nulla della mia attività amministrativa e politica in questi 23 anni questa è la mia forza onorevole finito finito questa è la mia forza non siamo ribadisco non siamo tutti uguali luigina da frosinone sempre sua cea lei ha voluto la bicicletta noi pedaliamo tutti insieme c'è problema luigina sì buonasera prego sì buonasera 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 senta non so se è stato trattato questo problema ma sono rientrata da poco e quindi colgo l'occasione ma io ho ricevuto un sollecito pagamento di una ditta di Roma sì no di una ditta di un recupero credito sì recupero credito di un recupero credito e e vabbè io ho chiamato la cea dico scusate ma se non mi mandate la bolletta ma io come posso pagare l'acqua esatto cioè non è che mi avendo qualcosa lei di dove è? io di Frosinone il sindaco è votato a favore per l'aumento ah per il portaglio non so marzo e luglio sta scritto sugli altri sì sì sta scritto no no a prescindere di quello che ha fatto ma io sì non è non mi piace è normale siamo votati a favore esatto però adesso mi stanno tartassando di telefonate l'ultima oggi che stavo in uno studio medico ho detto signor ma non ne posso più signora lei guarda senta che le dice il presidente dico solo una cosa lei scome il mio numero lo può trovare ma io lo posso dare se le richiamano si faccia dare nome e cognome gli facciamo una denuncia perché la cea questa società non può non può chiamare perché è anche un discorso di bravesi lei non può chiamare non possono chiamare del telefono la cea se vuole fare un sollecio di pagamento le manda una lettera lei la prossima volta che gli telefono li manda a quel paese anzi gli può dare il mio numero gli dica di chiamare me per il pagamento a sua bonita glielo dico io quello che penso e quello che devono fare queste società allora è un numero di Roma io lo so mi chiamano su cellulare Roma Messina però la prossima volta può rattaccare tranquillamente che non le succede nulla gli debbono mandare una lettera per un eventuale sollecio di pagamento no ascolti il sollecito ma non c'ha la bolletta ma lei non ha la bolletta e quindi appunto dovrebbe avere la bolletta prima del sollecito quindi loro è inutile che chiamano se lei non ha la bolletta ripetisco anche i consiglieri comunali che stanno ascoltando ascoltate le disperazioni i problemi che si sta creando e che sta creando la cea una domanda ma quando c'ero io sono a due o sette telefonate che mi fanno quando c'ero io scusa signora che dico una cosa mi è venuta in mente quando c'ero io tutti i sindaci volevano mandare a casa la cea voi sono spariti tutti mo' nessuno manda per casa la cea ma come vai? ma non ricordo che io si ricorda mo' nessuno può mandare per casa la cea grazie signora Luigina grazie grazie mandi a quel paese signora d'accordo ma non è che posso avere qualche problema no signora oggi ce l'ho mandata proprio fatta signora lei non c'è nessun problema perché intanto non ha una bolletta quindi quella persona sta facendo un abuso perché le sta chiedendo una cosa che non ha lei non ha nemmeno ricevuta quindi tranquillamente gli può attaccare il telefono non gli succede nulla oppure gli dia il mio cellulare mi faccia chiamare a me le do il numero se lo può segnare ce lo do ce lo do gli dia il mio numero senza problemi sicuro grazie ok grazie a voi grazie signora Luigina questa è l'ultima telefonata e noi ci scusiamo con tutti quanti coloro hanno chiamato e stanno continuando a chiamare per i problemi relativi a da cea non mancherà non mancherà occasione per rincontrare il forza ricomincieremo una trasmissione quindi ci saremo ogni mese almeno saremo presenti ma fa con me con chi vuole non c'è problema a disposizione no no vabbè così mi preparo perché è stancante così io faccio 5 se la regia mi dà mi dà l'ok vorrei fare le ultime le ultime domande per per concludere almeno con gli argomenti più più scontanti grazie dalla regia mi danno l'ok allora lei ha detto che farà opposizione all'interno di questo partito ma c'è ancora posto lo faccio senza non vado non vado a coordinamento perché ho detto e avevo anche la parola di chi tra virgolette gestisce il partito affosinone che si sarebbe cambiata sede perché nelle nostre riunioni si diceva che bisogna prendere una sede terza qualcuno si diceva ma parli di stupidaggi per me sono cose importanti una sede terza poi guarda casa la sede la facciamo in una segretaria diciamo di un politico non sono d'accordo quando si farà una sede terza io entrò alle riunioni di Forza Italia fino a quel momento farò lo farò in mezzo alla gente nelle piazze però adesso comincerò anche a spiegare il perché di questa mia posizione nei confronti di un partito locale perché nazionale io sto con Forza Italia rimango a Forza Italia e non ho nessun problema me lo puoi spiegare velocemente qui che cosa? il perché perché rimango in Forza Italia? perché io non sono una persona che nella vita ha riconoscenza nei confronti di chi ha creato un partito mi ha dato l'opportunità di crescita mi ha dato l'opportunità anche in base ai miei voti comunque però grazie a Forza Italia di ricoprire incarichi non avrei mai sognato nella vita di fare l'assessore regionale di entrare in Parlamento e di fare il Presidente della provincia grazie al mio partito quindi finché c'è Forza Italia ma soprattutto finché c'è Berlusconi io rimarrò legato io sono andato via dalla segreteria del Ministro in cui facevo il consulente gratuito tra virgolette quando mi è stata fatta la proposta di rimanere e in cambio ho avuto anche delle poltrone io ho detto io il Presidente non lo tradisco ho firmato le emissioni e me ne sono andato quindi le persone che oggi girano in Forza Italia ti invito a controllare da quanti anni sono iscritti a Forza Italia e oggi vanno pensano di fare i padroncini quindi io siccome mi sento adesso un iscritto di Forza Italia con un po' di esperienza politica un po' anche di tra virgolette peli sullo stomaco quindi farò le mie battaglie nel mio partito nel momento giusto aspetto con ansia di fare degli incontri all'anno nuovo dei vertici importanti di Forza Italia proprio per chiarire e come ripeto sto preparando un documento dove dirò la verità riscontrate anche da articoli di stampa da fatti concreti ci faccio qualche anticipazione ma racconterò la storia di Forza Italia quello che è successo in questi 3-4 anni in questi 3-4 anni velocemente cosa non è andato in Forza Italia perché si è creata questa spaccatura che vede parliamoci chiaramente onorevole lei da una parte e Mario Abruzzese dall'altra siete le due anime forti del partito e siete in contrapposizione si riuscirà mai ad arrivare ad una sintesi tra voi? purtroppo non dipende da me io ce l'ho provato ce l'ho messa tutta ma siccome quello che si dice stasera con qualche persona il giorno dopo non è più la stessa storia e quindi sono un po' stanco di fare accordi con persone che non mantengono la parola quindi non lo so cosa succederà io rimango nel mio partito pronto a confrontarmi che qui sta nel mio partito ma esigo rispetto e siccome in questo momento non c'è rispetto né per la storia né per il ruolo che ha avuto né per le battaglie che uno sta facendo in questo territorio io non posso fare battaglie a CEA e qualcuno si mette d'accordo con la CEA tra virgolette per fare degli esempi non è accettabile quindi io continuerò a fare la mia attività politica sul territorio senza nessuna difficoltà poi se ci saranno possibilità di incontro e confronto io non ho nessuna difficoltà ma dai segnali che sento e percepisco c'è una posizione diciamo nei miei confronti negativa e io ma non me lamento per niente perché mi darà la possibilità di uscire in maniera forte ritornerò forse anche nelle piazze ma soprattutto mi interessa documentare al mio partito di quello che sta succedendo a Fosinone abbiamo visto che rientrando nella piazza televisiva ha avuto già il suo appeal c'è chi l'accusa di essere tra i congiurati della della situazione che si è venuta a creare qualche settimana fa in seno alla maggioranza di Ottaviani il sindaco messo in sfiducia Antonello Iannarilli è tra quelli che vuole Ottaviani giù dalla sedia? La differenza è che io non sono abbiato a fare le congiure ma se devo dire una cosa alla persona glielo dico in faccia come ho fatto senza nessuna difficoltà io sono stato contattato da qualcuno della maggioranza per dei consigli non ho mai detto di mettere in difficoltà Nicola Ottaviani anche se potrei tra virgolette avere dei motivi personali per il comportamento che si è avuto nelle confronti delle mie persone che sono in giunta è chiaro perché da ieri da oggi c'è qualche telefonata che mi arriva risulta che forzità di Frosinone immagina su questo c'è un problema a Frosinone io non sono stato interpellato sulla gestione del problema di Frosinone mi risulta che abbia detto a uno dei consiglieri che l'assessore Straccamore non è stato indicato dal gruppo di Forza Italia quindi vuol dire da quello che mi riferisco quindi non posso ancora avere la certezza che potrebbe essere messo fuori io ho detto a chi di competenza che se toccano Straccamore sarà la battaglia politica della mia vita in provincia di Frosinone e le spiego perché Straccamore viene eletto con 500 voti di preferenza quasi è uno dei primi eletti gli è stato dato un assessorato del rapporto con la comunità europea le ricordo che Straccamore ha 82 anni non ha una stanza però dignitosamente fa l'assessore dà le risposte ai cittadini va in giunta e sta in silenzio perché è una persona carbata onesta una persona che ha del suo e se solo devo pensare che qualcuno si possa permettere di mandare a casa Straccamore intanto è una mancanza di rispetto nei confronti di una persona che ha 82 anni e che sognava di fare l'amministratore e ci è riuscito con i voti non perché gli ha regalato qualcosa a qualcuno in giunta Ottaviani abbiamo persone che non hanno nemmeno un voto e che non sono state elette quindi ho detto a chi di competenza che se qualcuno pensa di mandare a casa Straccamore mi troverà dal giorno dopo ho detto anzi che se succede domani e dopodomani io passerò la vigilia di Natale no perché è il mio compleanno il giorno di Natale e le feste natalizie a dare volantini a inviare il domoro vabbè quindi abbiamo dire ma perché perché io ritengo la politica si debba fare onestamente non si debba fare con le congiure come tu hai detto perché ci sono delle congiure e si debbano fare con i giochi sporchi io non sono per i giochi sporchi risulto chiaramente dopo 23 anni di aver amministrato perlomeno credo positivamente di non avere nessuna difficoltà e quindi invito a starmi alla larga e non farmi rispetti perché poi sono uno che non dimentica anzi devo dire che questo anno e mezzo di tranquillità poi ce li fanno dalla regia di tranquillità ho imparato molte cose e adesso sono seduto nella riva del fiume prima ero un po' più aggressivo adesso sono seduto nella riva del fiume e aspetto con tranquillità grazie grazie mille ad Antonello e a Anarilli grazie a tutti voi a casa buonasera a tutti un'ultima cosa che stasera sarei dovuto stare a Gubbio però avevo dato la parola a Torino Magnavera un augurio a mio figlio che combi 24 anni tanti auguri ad Antony talentuoso portiere del Gubbio in Lega Pro sta facendo un campionato fantastico grazie ancora all'onorevole Anarilli grazie a tutti voi a casa app per questo 2014 chiude la Sara Cinesca ci vediamo ci vediamo al prossimo anno buon anno a tutti e buone feste il presidente l'ha detto ci vediamo al prossimo anno ci vediamo al prossimo anno è a breve e con grandi sorprese può darsi perfetto ricchi premi e codiglione grazie a tutti voi a casa grazie a tutti